E ritorna finalmente il Federal Bureau del Cable Management per giudicare le vostre postazioni dopo più di un mese. Sì, abbiamo fatto andare in stand-by la serie perché mi era venuta l'ulcera. Basta andare su quei siti sporchi e loschi che poi ti ritrovi piena di malintenzionati nel telefono. Smettila! Ma io non sto andando in un sito sporco e losco. Ah no? Oggigiorno ci sono troppi pezzi di m***a online che attentano alla nostra f***ta sicurezza e se non sono malintenzionati allora è pubblicità sgradita del c***o che ci rompe i coglia. So cosa volete dire. Non tipo questa. Questa è bella. Immaginate che questa sia la vostra vita online e che a un certo punto degli schifosi figli di p***a mettano le mani sui vostri dati, ovvero sulle vostre password, credenziali bancari e login automatici, sui social e sulle email. Ma adesso una VPN bella tosta come Surfshark vi permette di criptare, ovvero nascondere agli occhi di questi rifiuti della società, i vostri dati online e di proteggere la vostra privacy. Ma con Surfshark potrete anche f*** il sistema di geolocalizzazione poiché Surfshark vi permette di farvi apparire online come se foste negli Stati Uniti per esempio in modo da farvi accedere a contenuti video o altro che nella vostra nazione non sarebbe consentito guardare. E se acquistate Surfshark che costa davvero quasi una m***a dal link che trovate in descrizione avrete solo per pochissimo tempo l'83% di sconto e non uno, non due, non quattro, ma tre mesi extra gratis. Cominciamo con Alessandro, 23 anni, provincia di Novara, mi interessava questa cosa? No. Eh, comunque, questa è la sua postazione. Ah, fratelli, sorelle, in casa tutto a posto. Amici. No, no, perché in realtà mi interessa. Ci interessa, ragazzi. Allora, c'è un problema con questa foto. C'è un problema con questa foto. C'è un problema con questa foto. Comunque, c'è un problema con questa foto. Sì. Non è iscritto al canale. Ma che figa fai? Rimediate, ragazzi, iscrivetevi e accendete la campanellina. Accendete. Attivate, ragazzi. Appicciate la campanellina, proprio. Fate le scintille con la pietra focaia sulla campanellina. Questo è il suo cable management. No. Alla belle... Meno male che c'è sto portacazzi. Allora, se non ci fosse stato sto portacazzi, tu saresti stato coi fili pensoloni. Eh, ma non è coi fili pensoloni. Sì, ho capito. Però in realtà questo non è un buon cable management. No. Questo è un cable management rimediato alla bella e meglio, in maniera tale da conficcargli tutti là dentro e fare finta che il cable da una cemanta. Eh, va bene. E questo è il resto della stanzetta. Sì. Alessio da Firenze ci mandano... Tanti stanno nei sottoscala, sotto cazzi e mazzi. Perché? No, più che altro questo è un sottoletto. Un sottoletto. Vabbè, ragazzi, dice perché? Raiden, abbiamo problemi di spazio. Non è che... Eh, però il divano messo là con la sedia attaccata al divano. No, infatti, cioè, non so se il divano abbia un'utilità. Io toglierei, eh. Ecco, se vuoi proprio risparmiare spazio, toglierei quel divano. Eh, però lo usa poi per guardare tipo la tv, penso. T'attacchi al cazzo. Ti metti sulla sedia, te ne compri una più comoda, anziché quella dell'Ikea o quello che è, e ti usi quella. Eh, e questo è il suo capo. Però bello il capo il management. Ah, bello. Cioè, guarda, tutto fascettato. Allora, diciamo che ha l'accortezza di non far pensolare niente. Eh. Però bello adesso. Andrea Danardò in provincia di Lecce ci manda la sua postazione. Però, ora, qui vi espongo io. Non è che se ci mandi la stessa foto in tre colori diversi migliora la situazione. No, anzi. Perché il management là dietro è disastroso. Ma è, sì, è proprio, ha un senso di esistere. Cioè, quel capo super tirato, ma perché cos'è? È una delle cose più brutte che abbia mai visto nella mia vita. Davide ha 29 anni, viene da Palermo ma vive a Londra. Dopo queste informazioni utilissime. Tu stai snocciolando oggi proprio, eh? Ce le danno loro. A me piace leggere le vostre mail. Comunque... Vabbè, questa è una postazione onesta. Tra l'altro mi vado a vedere un Grinfandango sul desk. Eh, è già ti compra. Un po' sì. È già ti compra, vedi? Ma! Ma? Ciò non ti esime dall'analisi rettale di quel cable management che effettivamente fa schifo alle casse. Esatto. Perché, caspita di un caspita, cioè tutti i cavi per i fatti loro. Vabbè, però sono dietro, dai, non è se... Ma che è dietro che si vedono? Davide Di Giuseppe dice che siamo il suo punto di riferimento per le news. Grazie. E il fatto che sia super sonaro non c'entra, giusto? Sì, potrebbe c'entrare. Però è bella la postazione. È molto bella la postazione, è molto Aloy. Vedi quanto Aloy? Madonna che fanboy di Aloy. Fan Aloy. Fan di Horizon, ma anche di The Last of Us, di PlayStation in generale. Sì, però c'è... No, non è l'Xbox RX. Sì, c'è l'Xbox RX adesso. Sì, è messa su uno degli scaffali a cazzo. È messa in un angolino l'Xbox. Sì, ma niente di serio. C'è l'ho per errore. Eppure, diciamo, lo scaffale vicino al letto è a tema PlayStation. Suonaro, suonaro. A livello di cable management siamo messi bene, sai? Si vede, non si vede, però si vede che c'è una fascetta. Sì, te l'ho detto. Tutto un po' artigianale, però bene. Cioè, alla fine, il risultato finale è buono. Leonardo da Firenze è conosciuto come Toroleo sul web. Ragazzi, l'ho detta, ma non è vero. Nel senso, chi lo conosce? Comunque, detto questo... Detto questo... No, vabbè... Ma è come Mike of the Desert. Ti cazzo lo conosci per Mike of the Desert? Nessuno ha mai detto Mike of the Desert. Vabbè. Ma la Madonna censurata? La Madonna censurata... Non è una Madonna. Cioè, sì, è una Madonna botticelliana, forse. Censurata. Ma togli le palme del 93, benedette. Dai, dai, che le bestemmie che lancerai al PC saranno Parigie. Magari no, però. Quello zaino, però, che si inserisce dove dovrebbe andare un case, lo vedo un po' strano. Dov'è il case del PC? Non c'è. Non... Forse è lo zaino, è un case a forma di zaino. Darsi, è una cosa incredibile. Questa è la postazione TV su cui non induggerei. E che farcita di cose, giustamente. Qua il cable management è quello che... Ma in realtà dietro il cable management non è neanche male quello che si vede poi davanti. Cioè, l'obiettivo di un buon cable management è quello di evitare... È quello di evitare che si vedano poi davanti. E questo è il resto della sua stanza. Con Cristina D'Avena. Cristina D'Avena. E' un altro che se fai i pippo con Cristina D'Avena, va bene. E va bene, questo è. Beh, va bene, bellina. Bellina? Che ci vuoi dire? Bellina? Dico, Cristina D'Avena non è male. No, per carità. Lorenzo ha 23 anni. Ah, l'irradia di fuzzi. Però guarda che bel... Beh, oddio, la postazione è semplice alla fine. Sì, i muri sono un po' spogli. Però forse me lo fa apposta quel case è bellissimo. Un bello tamarrazzo, però bello. Sì, il case è questo qua. Però forse me lo fa apposta perché mi va a irradiare tutto di fuzzi. Sul tapp, pulita, non ci vediamo. Per favore togli quella foto di famiglia. Toglila per cortesia. Lascia solo il cane, dai. Le facce sono griglie. Ma perché? No, non le vostre. In generale, quando mette la foto fidanzata... Ciò sta. L'ho targato. Mannaggia la... La polvere l'avrei tolta per... No, ma la polvere è portante. Se la togli crolla tutto. Il cable management, il disordine. Perché il lenzuolo sotto... A tenere la scrivania? Cioè, non capisco. E poi vabbè, la sedia. Ne vogliamo parlare della sedia. È il pc aperto. Figa, ma... Infatti è il case del 2004. E per finire il cable management. Ma guarda le gatte di polvere. Ma la polvere, te l'ho detto che è portante. Qui mi diventa addirittura fondante. Cioè, sono le fondamenta di polvere. Samuele Dallucca, 23 anni, sonaro. Si è descritto così. Si vede... Vabbè, sì, si vede, dai, che... Quel cavo che mi sale da sopra la porta mi sfascetta la cornice della porta. Proprio me la toglie, me la divelte. E mi va fuori dalla porta stessa. Ma cos'è? Che è illegale in 32 degli Stati Uniti. Poi andiamo avanti con questo. La polvere? No, questi sono peli. Cristo mi viene a starnutire solo a guardarli. Allora, questi sono peli. C'è da dire se sono peli del suo pube. Ma mi sembrano troppo bianchi. Abbiamo detto che ha 23 anni. Sì, sì. Mi sembrano più bianchi. Oppure, che ne so, di suo nonno che si viene a grattare le palle proprio là e poi se ne va. Non lo so. Mi sembra che c'è un giocattolo per cani o gatti. Direi che... Però, quando avete cani... Allora, ragazzi. La pulizia è importante. Eh, dai, sì. Soprattutto nella postazione PC. Perché poi il PC si suca tutto sto schifo e si ingolfa. E poi... Si è rotto il computer. I computer sono una merda. Eh no. Anche le console. Occhio se se le sucano. Hanno questa abitudine qua di sucare le console. E questo è quello che vede lui dal suo letto. Quindi lui, quando si... Si mette un po' come si corrigano in Cyberpunk 2077. Sì. Per poter guardare la tv. E Tommaso, vabbè... Pesso lo screen più disonesto che ci potesse essere. Ha preso uno screen bruttissimo. Disordine... Incredibile. Ma cos'è? La cos'è? Ma dove sei? In un garage? A sinistra cosa c'è? Cioè, non capisco. Queste sono le foto che ci ha mandato Ryan. Ma come ti permette di mandarci queste foto? Tu vuoi fare un attentato proprio al povero Ryan? Direi che la miglior postazione, ma non perché sonara, attenzione, poi pensatela come volete, non me ne frega proprio una mazza, è proprio quella di Lorenzo. No, Davide di Giuseppe. Davide di Giuseppe. Davide di Giuseppe. C'ha due nomi, non ne è zeccato manco uno. Davide di Giuseppe, che effettivamente è molto ordinata. Sì. Molto standard anche, però ha un senso e una sua simmetria. Tutta la stanza è ordinata. Sì, è un po' monotematica, anche se vogliamo. Ecco, però quelli sono affari suoi. Peggiore postazione, Tommaso, per forza in realtà, ne avevo già in mente prima diverse. Ma perché non è una postazione? Ma lui ha superato tutti. Allora, vedo batteri che sono grandi quanto il monitor e che sicuramente rivendicheranno la postazione. Anzi, secondo me lui, quel pc più piccolo, l'ha fatto uno degli acari. Ma scusami, ma attorno alla scrivania ha i led? Cioè, cosa metti i led? Ma cosa fai? Allora, fai una cosa. In questi casi, però, ci sono delle ottime soluzioni. Cioè, tu puoi assolutamente farti buttare a terra la casa con tutto quello che c'è dentro e rifai da capo. Resetti. E mi va a vincere, Davide Di Giuseppe, detto Lorenzo, anche il miglior premio per il cable management. Cioè, il premio Federal Bureau delle cable management. Anche perché la concorrenza. Ragazzi, inviateci le vostre postazioni seguendo le istruzioni in descrizione, se ci saremmo ricordati di iscriverle. E noi vi ringraziamo come sempre, ci vediamo alla prossima. E non ve la prendete, oppure sì a un certo punto. Cercate di migliorarvi. Don't be sorry, be better. Ciao. 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 Ciao.